Bella a tutti forniters, benvenuti su leontube, in questo video andiamo a fare la missione distruggi strutture cromo, dobbiamo distruggerne 100, allora possiamo fare o così ovviamente appicconate, andiamo se la conta, no non la conta ok, allora avete visto qui purtroppo questa missione sembra essere buggata perché non ci considera distrutte le strutture cromo ma cosa bisogna fare? Bisogna raccogliere del cromo, quindi andiamo qui in una zona dove c'è già del cromo e dobbiamo procurarci del cromo, sappiamo che il cromo lo possiamo trovare un po' ovunque e soprattutto distruggendo, vedete le strutture, gli alberi, gli sassi, vediamo questa scheda, gli alberi sassi diciamo cromati, ora qui in questo caso non mi ha dato nulla però si le dà ok ecco qui ad esempio ci sono i funghi o quelli che sembrano tali vediamo un po' se c'è eccole qua ce ne dà qualcuno, ora vi faccio vedere che la differenza è quella, allora la missione serve è stata anche semplice perché avremmo potuta farla con con praticamente un veicolo e distruggere tutto con la chiappa mucche invece ecco qua ora adesso facciamo anche fatica, ecco allora la chiappa mucche lo vedete è in lontananza qui nemmeno l'albero mi distrugge ok questo non è distruttibile vediamo questo se ce lo dà ok ci è andato poco ora intanto c'è una battaglia eccolo qua eliminato allora vi faccio vedere comunque perché ho il cromo andiamo a distruggere una struttura ok queste non sono cromate queste sono cromate andiamo a distruggere la struttura cromata io sono a 30 di 100 vedete non l'ho ancora distrutta ecco qua distrutta non mi ha dato nulla che cosa faccio arrivo qua cromo gli edifici non li conta perché sono cromato eh eccolo qua 31 avete visto il pavimento non conta questo piccolo muretto non me lo conta ancora 31 questa struttura invece la conta il soffitto dovrebbe contarlo vediamo vediamo questo non l'ha preso addirittura e questa è la procedura che dovete fare fino ad arrivare a 100 strutture un po macchinosa purtroppo ma deve essere buggata perché non la risolvono questo è l'unico modo per fare la missione quindi se il video vi è piaciuto vedete il pavimento vediamo un po' se conta se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace sì il pavimento conta avete visto conta e non sono più cromato un bel mi piace mi raccomando condividetelo con i vostri amici non dimenticate di lasciare un commento e se vi va come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale mi raccomando non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti ciao a tutti